Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico Questa puntata recensiremo molto rapidamente il piccolo amplificatore Behringer HA400 quanto le cuffie Sony MDR-ZX110 Allora, io ho comprato questi due oggetti per potenziare l'uscita sonora del mio notebook l'uscita cuffia l'amplificatore Behringer HA400 è ottimo non ha interferenze o flusci sui canali funziona ottimamente in metallo ed è piccolo necessita di adattatori per collegare cuffie quanto l'uscita audio dal notebook che appunto usano jack mini-pin che dire, ci ho attaccato le cuffie Sony MDR-ZX110 delle cassine COS e poi delle altre cuffiettine piccole sono eccellenti bassi, medi, megalattici in particolar modo sulla nuova Sony ZX110 gli altri sulla Sony ZX110 mi sembrano un pochino vattati ma se alzate il volume dell'amplificatore oppure usate un software di preamplificazione alzando un pochino gli alti degli MP3 il problema si risolve istantaneamente sulla Sony ZX110 ottime cuffie le Sony ZX110 poi il marchio Sony una garanzia dice tutto non è che ce sia molto da discutere ottimo anche il marchio Behringer veramente una garanzia fantastico questo mini-amplificatore questa puntata è tutto un saluto ciao alla prossima ciao